Duniziani, ma dove cavolo sono finito, accidenti? Qua sembra che ci sia qualche cosa di strano e guardate, là sopra c'è l'acqua che sgocciola. Qua siamo su un pianeta, però questo pianeta è strano, è diverso dal solito. E io ho paura di andare là sotto, poi là sotto è tutto quanto giallo, qua invece è tutto quanto rosso. Perché? Cos'è che è successo? Invece qua è tutto verde, perché vedete, è un pianeta fatto di blocchi verdi, di blocchi di terra, insomma, con l'erba. È molto bello però, devo dire, però, allora, secondo me c'è qualcosa di strano. Secondo me adesso questo pianeta ci riserverà SCP abbastanza strani, perché voi dovete sapere che questi pianeti continuano a prendermi e a mettermi, diciamo, gli SCP più pazzi e strani che possano esistere. E io, sì, come vedete ho ancora l'armatura in diamante rosso, perché è molto bella e secondo me anche molto buona, perché dobbiamo stare attenti, perché gli SCP ci possono distruggere da un momento all'altro. Però allora io direi prima di tutto di iniziare a crearci una base sottoterra, prima che arrivi la prima, diciamo, l'ondata degli SCP, non la prima, ma l'unica ondata degli SCP che praticamente sarebbe la notte. Allora, qua sotto, ecco, io però non farei questa cosa, cioè farei solo di uno, perché sennò poi dopo ci, cioè capite, non è bello solo di, diciamo, di due. Perché poi dopo, io fatico, no? Devo chiudere in questo modo, quindi non va bene, devo chiudere, oh mio Dio. Non so se mi sono fatto spiegare. Rispiego perché, secondo me, non si è capito molto. Ma guarda te, Duny. Praticamente se lo faccio di due è difficile da chiudere, invece se lo faccio di uno, vedete, si chiude molto più velocemente. Eh, perché ovviamente gli SCP spawneranno qua in superficie. Allora dobbiamo stare attenti, secondo me adesso direi di fare un taglio e di andare direttamente alla lottata degli SCP, perché secondo me ce ne saranno di davvero belli questa volta. Dunizioni, ma cos'è quella cosa? Ehm, aiuto? Come caspita faccio io ad uccidere questo coso? Perché dovete sapere che le sfide degli SCP praticamente si fanno uccidendo questi strani SCP che non so di che tipo... Eh, che schifezza è! Oh mio Dio, ma che tipo di SCP è questo? Scusatemi. Forse... No, 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 dobbiamo stare attenti perché qua stiamo... No, 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 che schifezza! Ok, l'ho tolto prima che mi uccidesse! Aiuto! Stiamo attenti, mi raccomando, perché se non stiamo attenti qua possiamo perderci le penne completamente. Perché chissà che tipo di SCP era quello, cioè nel senso io non l'ho mai visto prima d'ora. Questa qua comunque continua a gocciolare, porca miseria. È molto strano, devo dire. Però adesso continuiamo a vedere i prossimi SCP... No, 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 stai scherzando, stai... Oh! No, ma questo è il medico del... È il medico della peste mia! No, ma stai scherzando! Oh! Oh! Oh mio Dio, mi ha ucciso. Dunisiani sono qua dentro, la cosa che mi ero scavato. Allora praticamente secondo me, risolgo dalle ceneri... Sì, vabbè, avete capito. Secondo me qua ci... Fuori ci sono degli SCP, perché sto sentendo rumori, ma non ho capito bene chi è. Allora, io qua ho paura di... Di solo mettere la... 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 La testa fuori. Io sto sentendo gli SCP, è per quello che sto parlando così in modo strano. È... Oh mio Dio! È with many voices! Oh mio Dio! Era proprio... Era... Oh mio Dio, mio Dio, mio Dio, mio Dio, mio Dio, mio Dio... Era with many voices! Porca miseria! Controlliamo che magari non ce ne siano altri, ma secondo me non ce ne sono. Dai, ma porca miseria! Oh no, 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 ehi! L'ho tolto, l'ho tolto, l'ho tolto, ma state scherzando? Ma state scherzando? Cioè, avete visto quanto mi ha tolto con un singolo morso? Non è che ce ne sono altri, vero? No, vero. Spero di no. Oh, porca miseria, io mi son cagato addosso. Cioè, davvero, eh? Quant'è che dura questa sfida dei SCP? Basta! Tunisiani, ma che caspita è successo? Perché a me viene da ridere perché sto sentendo tipo strani rumori, ma... Oh, ma stai scherzando, ma che... Tunisiani direi che questa sfida l'abbiamo persa, l'ha dichiarato anche il pianeta. Abbiamo perso questa sfida perché, ehm... Non siamo stati in grado di uccidere quell'SCP, era troppo grande. Ma avete visto? Ma che tipo di SCP era quello? Cioè, anzi, mi sa che... Ok, SCP-682. Ma che tipo... Ma... Io non l'ho mai sentito questo SCP. Mmm... Mi sembra strano, eh, ma... Era enorme, comunque, come SCP. Cioè, davvero... Era una cosa indicibile. Era... Era davvero enorme, comunque. Veneziani, eh... Io direi che per questa sfida dei... Dei pianeti e dei SCP può essere tutto. Mi raccomando, se siete arrivati fino a questo punto del video, scrivete SCP-682 nei commenti, Così, almeno, eh, capito... Non lo so. Non lo so, scrivete, così vi do il cuoricino. E... Beh, sono sconvolto. Non abbiamo superato... È la prima volta che non abbiamo superato la sfida dei... Dei... Dei pianeti. Chissà che cosa ci vorranno fare questi altri pianeti. Mannaggia. Allora ci vediamo al prossimo video, tunisiani. Ciao. Ciao.